Facciamo un bel minessone vegetale con verdure selvatiche e resti di orto. Abbiamo i pomodorini, le pietole, una patata già germogliata, alcune foglie di cappuccio o cavolo verde, sedano del mio orto, anche il prezzemolo, fiori di zucca, foglie di amaranto e zucchina lunga, ovvero la cucuzza, ma possiamo usare anche le semplici zucchine. Bietole selvatiche, cavolo o cappuccio verde e foglie di amaranto crescono spontanee e stamane, quando ho fatto la passeggiata, non ho resistito a raccoglierle. La pianta di amaranto darà un sapore delicato al nostro minestrone. Mettiamo la verdura in bacinella. Aggiungiamo l'acqua e laviamo la verdura. Sciacquiamo e rilaviamo più volte. Togliamo dall'acqua e facciamo scolare. Con un nostro finaccio puniamo la cucuzza all'esterno. Tagliamo a pezzi. Con un semplice sbucciatore togliamo la buccia. Anche quella più doppia. Se invece fate il minestrone con le zucchine, questo non serve. Togliamo il germoglio dalla patata. E cominciamo a pelare. Sciacquiamo sotto acqua corrente sia la zucchina che la patata. Tagliamo a metà la zucchina. Adesso dobbiamo togliere anche i semi all'interno, aiutandoci con un cucchiaio grande o piccolo. Prendiamo una pentola ben capiente. Tagliamo la nostra zucchina prima a fette e poi a tocchetti. E mettiamo in pentola. La stessa cosa facciamo con la patata. Adesso è la volta della verdura. Dobbiamo tagliarla finemente per poi metterla in pentola. Aggiungiamo l'acqua. Ed io in questo caso avevo un po' di cipolla ancora. La trito e gliela metto dentro. Posso sul fuoco la pentola. Chiudo con il coperchio. E lascio riscaldare fino a bollitura. A questo punto aggiungo un po' di olio e sale. Mescolo e lascio cuocere per 40 minuti. A fuoco medio. Dopo circa 40 minuti il nostro minestrone vegetale è pronto. Versiamo nel piatto. Aggiungiamo un filino di olio evo. Una spolverata di pecorino nostrano. E buon appetito da nonna Marianna. Panna. Ingredienti per 4 persone. Un chilo di zucchina lunga o semplice, una patata, 15 fiori di zucca o 200 grammi di polpa, 6 pomodorini, 2 foglie di bietola, 3 foglie di cavolo o cappuccio verde, in mancanza potete usare la berza, 10 foglie di amaranto, 3 steli di sedano, 2 steli di prezzemolo, mezza cipolla, sale quanto basta, 4 cucchiai di olio di oliva, 1 litro di acqua. Cottura a fuoco medio per 40 minuti. Se ti è piaciuto il video lascia un like ed iscriviti al canale. Ciao, ti aspetto!